Bene, allora, adesso intanto che si asciuga il silicone un po' dappertutto, credo che farò i segni sul muro per fissare poi queste paste qui, in modo da essere poi pronti per l'assemblaggio finale. Questa è quella che va di qua, così, andiamo. Ok, sì, quindi posso seguire qui la funga delle estelle. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, perfetto. E qui ci siamo. Ma pulisco un po'. Ecco, mettiamo già i tassellini. Uno, due, tre, e quattro. Do una pulita alla prima stanghetta qui. Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. 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 Ci siamo. Vediamo prima di un tavolo rovescio. Ok. Non sa bene, non è molto fumo. Corbo. Bene, allora adesso pulizia con l'alcol. Grazie a tutti. 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 fluctui. Adesso è ora di pranzo, vado a mancare e ci vediamo dopo pranzo per proseguire questo montaggio, perché adesso credo che devo montare le pareti a soffietto per poter togliere gli elementi in modo da farli a misura, perché così come sono adesso chiaramente sono troppo lunghe, quindi credo che dovrò togliere tre elementi per parte per farli combaciare bene, comunque vedremo poi dopo. Intanto vado a farmi il pranzo, ci vediamo dopo. Ok, allora con la pancia piena riprendo i lavori. Allora ho portato qui intanto le porte scorneboli a soffietto e adesso andiamo a vedere come vanno inserite e soprattutto vediamo se e quanto devo, quanti elementi devo togliere. Sicuramente ne devo togliere, ma adesso vediamo anche quanti. Dunque, com'è che dicono qui che bisogna fare? Ciao! Lei中 professor izzato non Grazie a tutti.